Con la collaborazione tecnica di Mogar. Buon ascolto. Stiamo per riavvolgere il nastro ai primi vagiti di un evento di portata planetaria. Esamineremo i vari aspetti che l'hanno caratterizzato e forniremo una panoramica dettagliata dei temi che verranno di volta in volta affrontati. Soprattutto daremo riscontro alle domande mai poste, agli interrogativi che sono rimasti in evasi e quanto si prefigge di fare Covid Rewind con l'auspicio di poter offrire un quadro più chiaro di questo intricato fenomeno di rilevanza storica. Fenomeno che, a causa del suo leitmotiv impercettibile e invisibile, ha finito per innescare vere e proprie dispute teologiche. Ma chi sono i protagonisti di questa serie di puntate? Sono stati diffusamente presenti nel corso di innumerevoli iniziative che le hanno visti ospiti di raduni, convegni, manifestazioni, conferenze o di conversazioni sul web. Sono medici, ricercatori, avvocati, liberi pensatori, intellettuali, docenti, proclamati o proclamatisi eretici rispetto alla narrazione dominante. Narrazione cui eseggeti hanno dribblato in maniera colpevole e sistematica il dibattito scientifico. Covid Rewind Prima puntata Il test molecolare PCR Dunque dicevo, riavvolgiamo il nastro all'alba del fenomeno Covid e atteniamoci almeno per ora alla cronologia ufficiale, quella che su o malgrado tutto il pianeta ha imparato a conoscere al netto delle inchieste, delle indagini e delle scopertie a posteriori. La cronologia che insomma è stata scandita a partire dall'ultimo giorno del 2019, a decorrere dal quale quasi la totalità dell'intero mondo si troverà proiettato in un'atmosfera post-apocalittica, fino a quel momento solo a bozzata immaginata, grazie a opere letterarie e fiction distopiche. Mentre infatti, in maniera diacronica, ci si appresta ad augurare il meglio per l'anno a venire, a rovinare la festa ci pensa l'ufficio cinese della WHO, la World Health Organization, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che viene informata di casi di polmonite da eziologia sconosciuta. Così recita pure il bollettino del nostro Ministero della Salute. Cioè non si conoscono le cause di questa patologia rilevata a Wuhan, megalopoli che conta 19 milioni di abitanti è situata nella Cina centro-occidentale, nella provincia di Hubei. Sette giorni dopo, la causa viene individuata. Il 10 gennaio del 2020, una sequenza del genoma virale, in sostanza il manuale operativo di un virus, viene diffusa sul sito di virological.org. Il 16 gennaio, il Centro Tedesco per la Ricerca delle Infezioni, ZEF, Deutsche Zentrum für Infektion Forschung, pubblica un comunicato stampa, nel quale si afferma che i ricercatori sotto la guida del professor dottor Christian Drosten, direttore del campus Charité Mitte dell'Istituto di Virologia dell'Universität Medizin di Berlino, hanno sviluppato il primo test diagnostico per il nuovo coronavirus in Cina. Christian Drosten. Rammentate questo nome. 16 gennaio 2020. Appuntatevi la data, poiché da questo momento il mondo scivolerà repentinamente, inesorabilmente negli inferi. Ma chi è Christian Drosten?